Oggi abbiamo visitato qui nell'Oltrepopo Avese una grande eccellenza, un grande laboratorio, Lab Analysis, un'azienda che si distingue per tantissimi primati. Innanzitutto quello di puntare molto sulla ricerca e sull'innovazione, una forte partecipazione femminile, addirittura superiore a quelli degli uomini e poi dopo una grandissima attenzione verso la sostenibilità. La sostenibilità qui viene declinata in vari modi, oltre che a quella ambientale, anche dal punto di vista sociale ed economico. Devo dire che realtà come queste, che sono realtà familiari, esprimono veramente il meglio della capacità imprenditoriale dei nostri territori e sono un grande orgoglio per la nostra associazione. Lab Analysis è un'azienda di testing e consulting che ha la mission di offrire servizi di elevata qualità utilizzando l'innovazione. Siamo presenti sul mercato dal 1976, attualmente abbiamo 19 sedi in Italia ed impieghiamo 850 persone. Il nostro motto è Good for the Planet, Great for the People. Grazie a tutti.